Di nuovo in Italia con la caccia a Matteo Messina Denaro. È vivo e vegeto, dicono gli arrestati nel blitz dei carabinieri del ROS. 35 in carcere, tra loro anche uno dei fedelissimi del boss di Cosa Nostra, come ci racconta Giacinto Pinto. Un potere assoluto, rimasto inalterato nonostante quasi 30 anni di latitanza. Nulla si muove dentro Cosa Nostra se a deciderlo non è Matteo Messina Denaro. Lo dimostra anche l'ultima inchiesta antimafia della procura di Palermo. Il blitz dei carabinieri del ROS e del provinciale di Trapani la notte scorsa. 35 gli arresti. In carcere è finito anche Franco Lupino, considerato uno degli uomini più vicini al superlatitante. È vivo e vegeto, dicono nelle intercettazioni i fedelissimi di Messina Denaro. Il fantasma che riesce a gestire gli affari sporchi anche nelle province di Palermo, Catania e Agrigento e non solo a Trapani. E gli appartenenti a queste organizzazioni riconoscono la validità dell'interlocuzione proprio perché gli associati si muovono sotto la direzione della ditante Matteo Messina Denaro. Un'azione che va avanti da anni per isolare l'uomo che conosce i segreti delle stragi. Gli investigatori hanno svelato anche la trama dei rapporti tra mafia e imprese, i condizionamenti da legare d'appalto alle procedure delle aste giudiziarie. Dal 2011 sequestrato un tesoro di oltre 150 milioni di euro. In carcere più di 200 persone, complici e fiancheggiatori di Messina Denaro.